Storedot, pioniere della tecnologia delle batterie XVC, Extreme Fast Charging per veicoli elettrici, collabora con Polestar per una ricarica estremamente rapida. Storedot ha sviluppato un progetto di ingegneria avanzata per esplorare tecnicamente e dimostrare come la tecnologia delle celle della batteria XVC può essere applicata a una piattaforma esistente e mostrare come potrebbe apparire una soluzione a livello di produzione. L'annuncio rivoluzionario è stato fatto al Polestar Day a Los Angeles, California, dove è stata dimostrata la ricarica delle celle XVC 105 di Storedot insieme a un prototipo di un modulo batteria Polestar. A seguito dell'investimento di Polestar in Storedot e nell'ambito di una partnership strategica in corso, le due società sono già in fase di collaborazione avanzata e stanno lavorando per dimostrare la tecnologia XVC di Storedot pronta per la produzione su larga scala in un prototipo di veicolo Polestar nel 2024. La collaborazione dettagliata include integrazioni come la progettazione ingegneristica e il raffreddamento. Storedot è il leader mondiale nelle sostanze chimiche a predominanza del silicio, essenziali affinché i veicoli elettrici possano caricarsi a velocità estremamente elevate. L'azienda ha già svelato la roadmap tecnologica strategica 100 in X, delineando tre generazioni di tecnologie Storedot. Extreme Fast Charging, a predominanza del silicio, architettura a stato semisolido e post-litio. Questa tavella di marcia rivadisce le tappe fondamentali previste per il prossimo decennio con l'obiettivo 100 in 5 per il 2024, 100 in 3 per il 2028 e 100 in 2 per il 2032, dove gli ultimi numeri, dopo il 100, stanno per i minuti necessari per ricaricare la batteria all'80%. Grazie a tutti. Grazie a tutti.